A un anno dall'inizio delle attività, nel febbraio scorso, il Centro di Aiuto alla Vita, intitolato a Mamma Nina, ha voluto festeggiare con tutti i soci, volontari, gli amici e le famiglie e ringraziare per il dono dei figli. La Messa per i nuovi nati è un'occasione importante per il Centro di Aiuto alla Vita per ringraziare il Signore per il dono della vita. L'abbiamo celebrata quest'anno nella chiesa di San Giuseppe Artigiano grazie al parroco Don Lino che ci ha dato questa opportunità. e così festeggiamo anche un anno di Centro di Aiuto alla Vita. Sono nati quattro bambini dalle mamme che abbiamo un po' sostenuto durante la gravidanza e altre situazioni stiamo seguendo in questo 2012. Abbiamo appunto cinque famiglie in modo particolare che stiamo accompagnando, tanti altri che vengono a chiedere anche aiuti materiali. stiamo riaprendo anche il tesseramento quindi invitiamo tutti a sostenere il Centro di Aiuto alla Vita.